Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. Essi difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo-avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Arriva Cristiano Ronaldo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Murro. Palla larga e in profondità. Borriello. Cerca il compagno in area. Conclusione. E c'è il gol del Cagliari. Sono di nuovo in vantaggio. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. E' la seconda rete per lui. Grazie a tutti.